Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove si è verificato un incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi tra Rioveggio e Roncobilaccio. Per quanto riguarda le statali, sulla Aurelia, illuminazione di una galleria guasta circa 3 km e 300 m da Follonica Nord in entrambe le direzioni. Sulla statale 64 Porrettana, senso unico alternato tra Taviano e Pavana Pistoiese in entrambe le direzioni. Infine, per quanto riguarda gli aerei, si ricorda che gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa hanno aderito allo sciopero di Erno di 24 ore. Aggiornamento sullo stato dei voli attraverso i nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!